L'abbiamo già preannunciato in apertura di programma, questa mattina vogliamo portarvi a visitare un luogo significativo di San Giovanni Rotondo. Stiamo parlando del Museo delle Cere che si trova nel cuore del centro storico della città di San Pio. Diamo il benvenuto all'anima del Museo delle Cere di San Giovanni Rotondo, guida turistica Lucia Pia Perna. Buongiorno Lucia, benvenuta, grazie per aver accolto il nostro invito. Allora, lo abbiamo visto anche dalle immagini che ci stanno accompagnando. Il Museo delle Cere di San Giovanni Rotondo si trova in un palazzo storico. Raccontaci come è nato e dove si trova. Allora, il museo nasce dall'input di Fortunata Morcaldi, che era la figlia del sindaco Francesco Morcaldi, noto come figlio spirituale di Padre Pio, ma soprattutto come suo grande difensore. Lei, a causa di un terremoto non potente ristrutturare questo palazzo, l'ha ceduto al comune, che era guidato dal sindaco Antonio Squarcella, dicendo di dedicare qualcosa a Padre Pio e suo padre, appunto Francesco Morcaldi. E nacque dall'idea di Fortunata questo museo tematico sulla vita di San Pio, costato in cera a grandezza naturale. Quindi diciamo che è stata una collaborazione tra Fortunata Morcaldi, il sindaco Squarcella e la Museo Un Project di Firenze. Ecco, vediamo appunto le immagini anche che ci portano all'interno del Palazzo Morcaldi, dove adesso ha sede il Museo delle Cere di Padre Pio, che racconta, potremmo dire, i momenti salienti della vita del santo, è così? Sì, sì, sì. Si parte da quando aveva otto anni, quindi c'è questa scena meravigliosa che sembra quasi un presepe, dove Padre Pio ha otto anni, appunto all'epoca Francesco Forgione, che apre la porta a un frate cercatore, Fra Camillo, si innamora della figura fiabbesca di questo frate e dice alla mamma che anche lui diventava frate proprio con questa lunga barba bianca e si conclude ovviamente con gli ultimi momenti della sua vita, quindi con la morte, con l'ascesa al cielo. Riesci a raccontarci, Luciana, quali emozioni suscitano queste scene, questo museo, in chi magari lo visita per la prima volta, ma immagino che ci siano anche dei visitatori che tornano di anno in anno. Sì, sempre, anche ogni mese. Sembra strano perché uno dice l'hai già visto eppure tornano, perché lì, Paola, permettimi di dire, aleggia lo spirito di San Pio, c'è qualcosa nell'aria, nell'atmosfera che crea un'emozione incredibile. Sarà il fatto di vedere le statue a grandezza naturale, quindi sembra di essere proprio trasportati in quell'ambiente, in quel contesto storico. La gente esce sempre in lacrime, iniziano magari un po' scettici, perché pensano di vedere delle cose un po' fredde, senza anima, invece lì tutto prende vita. Quindi si emozionano tantissimo, tanto che spesso mi raccontano proprio quello che loro hanno vissuto con Padre Pio e c'è sempre qualcosa, sempre. Ci sono sempre delle storie legate a santo. Chi viene qui è perché lo ha percepito in qualche modo. Ecco, al museo questo è il messaggio che io cerco di dare, sicuramente la vita di San Pio che è la prima cosa, ma anche un messaggio di speranza, cioè far capire alle persone, ai pellegrini che vengono qui, che effettivamente noi non siamo soli. E allora noi vediamo appunto, continuiamo a vedere le immagini che ci portano all'interno del Museo delle Cere di Padre Pio, che si trova in via Pirgiano, nel centro storico di San Giovanni Rotondo. Abbiamo anche il numero di telefono a cui possono fare riferimento per informazioni e prenotazioni anche, se magari sanno già in anticipo a che ora preferiscono fare la visita. 331-310-8892. Posso chiederti, Luciana, scendendo un po' più nel personale, che significato assume per te essere guida in questo museo e portare i pellegrini alla scoperta del Museo delle Cere di Padre Pio? Ecco, all'inizio è nato come un lavoro. Avevo 18 anni, quindi una ragazzina, è nato come un lavoro e raccontavo in maniera, come dire, fredda, tecnica, quello che era il percorso di vita di San Pio. Poi piano piano è diventata proprio una missione, una passione, perché questi incontri, il vedere le persone che si emozionavano, Padre Pio che comunque, visto la sua grandezza, ecco, lavorando lì, è diventata una missione. E poi ci tenevo a sottolineare il Borgo Antico, dove Padre Pio c'è passato, cioè il museo si trova nel Borgo Antico, nel Palazzo Morcaldi, e quelle che anche storiche hanno visto i piedi stigmatizzati di San Pio, perché lui spesso scendeva in paese a benedire le persone, a dare l'estremozione, a benedire l'asilo delle suore francescane. Quindi ecco, chi ripercorrerà quei vicoli, in qualche modo, ripercorrerà anche i passi che ha fatto Padre Pio, perché molti pensano che sicuramente ha vissuto in convento 50 anni e è stata la sua casa, però spesso scendeva anche nel Borgo Antico, quindi si può fare il Museo delle Cere e ripercorrere anche il Borgo Antico, dove appunto ci andava Padre Pio. È una missione, Paola, è veramente una missione. È un lavoro, ma è diventata proprio una passione, uno stile di vita. Ormai Padre Pio, il museo e la mia vita sono un tutt'uno, tutto incastrato. Infatti tanti sono coloro che ti scrivono anche sui social, che ti ringraziano appunto per la disponibilità e che in qualche modo poi ritornano, perché diventi, come dire, una persona di riferimento. Sono proprio rapporti di amicizia, davvero. Poi sappiamo anche che tuo padre a volte accompagna i gruppi di pellegrini in maniera totalmente volontaria. Assolutamente, volontaria e informale. Ci tengo a sottolineare che lui non è una guida preparata, lo fa perché è nato nel centro storico e quindi gli piace far rivivere quelle viuzze e anche i pellegrini, quindi anche lui cerca di dare una mano, sì, in questo senso. E allora, per chi non l'avesse ancora visitato, se avete in programma un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, oltre ai luoghi appunto cardine, quindi il santuario, il convento, la chiesa antica e la cripta che custodisce le spoglie mortali del Santo di Pietra e il Cina a San Giovanni Rotondo, fate tappa anche al Museo delle Cere. Stiamo vedendo le immagini, c'è anche un numero di telefono per ricevere informazioni. E allora, cara Lucia, grazie per averci accompagnati per mano alla scoperta di questo luogo significativo a San Giovanni Rotondo, il Museo delle Cere. Grazie a Lucia Pia Perna per essere stata con noi quest'oggi. Buon lavoro, ti restituiamo ai tuoi doveri. Noi ci fermiamo qualche istante e andiamo in pubblicità.